Benvenuta Feriniki in questo nuovo fantastico mondo dove tutto quello che pensi, tutto quello che hai nella mente lo puoi costruire Ok Steph, ho capito, è tutto bello, tutto colorato, tutto fighissimo, però secondo me c'è solo un piccolo problema Un problema? Non sappiamo costruire nulla, proprio zero di zero, quindi che ci facciamo qui? Ma non è vero, siamo degli abilissimi costruttori, siamo famosi in tutto il mondo per tutto quello che sappiamo costruire Stai soffrendo di qualche altra personalità perché non sei lo Steph che conosco Guarda, 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 guarda questo, guarda questo, questa è un'opera d'arte Come si chiama? Il sentiero che ti porta al monte Dimmelo adesso che non so costruire Feriniki, dai abbi il coraggio Non sai costruire E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph che si chiama Scrap Mechanic Ebbene sì, siamo qui per provare a iniziare questa nuova potenziale serie Io sinceramente non so perché non abbiamo mai portato Scrap Mechanic prima di adesso Non lo so, non lo so Prevalentemente per lo stesso motivo per cui non facciamo molto Minecraft Perché a costruire siamo davvero scarsi Però in questo gioco abbiamo scoperto che si possono utilizzare le fantastiche costruzioni delle altre persone E quindi abbiamo pensato, dai, proviamo a fare una serie dove noi piano piano impariamo a costruire E cerchiamo di fare qualcosa di decente Nel mentre vi facciamo vedere costruzioni di altre persone strafighe e strabelle Che testeremo, proveremo e sfrutteremo Quindi così può uscire qualcosa di interessante In ogni caso, prima di iniziare Allora, questa serie uscirà nel caso al posto di Don't Fight Me Bro Quindi vediamo un pochettino quella delle due vi piace di più e continuiamo quella Invece per Agent A, ovvero l'Escape fatto domenica Lo finiamo domani in live, dato che è abbastanza piccolo come gioco Lo finiamo domani in live intorno alle 17-18 Quindi non stiamo iniziando duemila cose, state tranquilli Sono stanco Quanto è faticoso questo mondo Eh sì, eh sì Ti ho visto col martello, criminale In questo gioco non ci si può picchiare, mi piace Non te lo posso dare in faccia, peccato Vedi, sarebbe stato bello aggiungere un po' di cefoni che ti potevo dare Va benissimo così Allora, dicevo, iniziamo con le costruzioni degli altri Sì, così sembra già un video fighissimo E non facciamo scappare tutti con le nostre schifesse Mi sembra logico Però non devi dire la voce alta, altrimenti scappano lo stesso Vabbè, dai, lo stavano pensando che i consumi non c'era bisogno Certo In questo mondo fantastico è fatto tutto a biomi come su Minecraft Un sacco di posti diversi tra loro Ad esempio, lì davanti vedo tutto un campo di coltivazione troppo bellino Vieni che andiamo a vederci dal volo Perché mi hai fatto salire su questa montagna? Fai la brutta qui Ci sono anche costruzioni casuali del gioco Perché di fatto questa non l'ha messa nessuno Bellissima Mi piace stacco Sfruttiamo questa piattaforma per mettere la prima cosa di oggi Allora, io ho scelto come prima cosa un veicolo Però non è un veicolo normale È un veicolo molto, molto, molto speciale Perché voi lo vedete così e penserete Ah, vabbè, dai, Steph, è semplicemente un veicolo Sto leggendo a volo i tasti Ah, ho già capito che cos'è Come hai fatto? Perché l'ho visto prima nel workshop Questo? Senza di te Sì, sì Sicura che sai che cos'è? Sì Ci siamo tutti e due, ottimo E tutto bellissimi Alla guida qua Siamo troppo carini Siamo troppo carini E vedi, è questo il nostro veicolo Ti piace? Mi da piano Mi stai facendo sbattere Ti va piano, va sano e va lontano Allora, siamo pronti? Devi vedere i personaggi come fanno Sono tutti sballotolati così Nel sedile poverini Ti sto guardando Se io premo uno Ecco, ecco, è quello che avevo visto Ok Se poi premo due Ma si trasforma più chiaro Tre E quattro Oh mio Dio, guarda dietro Teoricamente Guarda dietro Adesso dovrei poter volare E sei sceso Perché devi rovinare tutto? Perché devi rovinare i momenti più belli? Dai Prendi il volo Abbiamo i propulsori dietro Devi prendere un bel volo Sì, aspetta Senza schiantarti negli alberi Ci abbiamo fatto E' Stefo vola E' Stefo vola Ha i propulsori anche davanti Guarda sotto Nelle ruote di davanti Sotto due propulsori giganti Guarda come stanno La so E' quelli che Ma come ne ho fatto A fare una cosa del genere? Ho questo Ok Che devo trovare un po' il modo Di gestire Ok Ok Dopodichè Ho questo Ok E però cosa? Mi dici questo, questo, questo Quello nero Allora, perché vedi Questi sono quelli di sotto Se invece premo l'altro Vedi, è quest'altro nero Che sta dietro nel cofano Ok Io direi di sfruttare questo bellissimo veicolo Per scegliere un pochettino Dove costruire il nostro villaggetto Perché sì Io in questa serie Vorrei Mentre proviamo Le cose fantastiche degli altri Vorrei cercare di costruire Un nostro villaggetto Bravo Hai detto bene Vorrei cercare Cercare di Cercare di Sì 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 Rimango molto vago Perché non so se funzionerà Secondo me andrà malissimo Esattamente adesso Che sto facendo non lo so Esatto Questo è proprio Non solo non sappiamo costruire Ma non sappiamo neanche volare Neanche volare Neanche volare Bene, mi ero rotto le scato di volare È bello volare Sì Per questo mondo E decidiamo dove stabilizzarci E iniziare a costruire Le nostre bellissime costruzioni Che saranno dei mattoncini Uno sopra l'altro Prevalentemente Proprio quadrate Proprio quadrate Allora dove ti piacerebbe Cosa vorresti Una pianura Una montagna Un deserto No una pianura Una macchina incastrata In una collinetta Cosa ti piacerebbe vedere Dimmi Fere Dimmi Steph ti accontenta Con tutto quello che vuoi Aspetta Che sta succedendo Ho alzato le ruote Vabbè No ma queste macchine Sono incredibili Però è giusto Perché se ti incastri Almeno riesci Pensano a tutto Pensano a tutto Guardami Vabbè Oddio La stai aprendo in due Andiamo a me Calmati Allora Comunque ho trovato Un bel posto Io Io Questo è Steph Con la sua capitana Andiamo a comandare In tutto il nostro mondo Guarda come balzo Con la mia macchinona Sono sceso Per fortuna Per fortuna Ti dicevo io Quando c'è Parlando molto seriamente Ho trovato il posto Guarda su con la montagnetta Dietro di noi Lo vedi che c'è una pianura Sopra Non sarebbe troppo carino Proviamo Proviamo ad andare a vedere Secondo me qui è carino Sì la macchina l'ho parcheggiata Perché non ne potevo più Però qua mi sembra carino Allora Quindi proviamo a costruirci una casetta Una casetta Dici per prima di iniziare Alla base di un villaggio C'è prima di tutto il posto dove dormi Allora Ok ok Sto già pensando a come poterla fare Allora ascoltami un attimo Ognuno per sé Come ognuno per sé Sì facciamo a chi fa la casetta più carina Ma no Vabbè Dai sì 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 Dobbiamo farlo Scegliamo prima di tutto il punto Tu la fai lì Io la faccio qua Sì Io ho già iniziato Con che materiale la faccio Vediamo un pochettino Mi piace molto il blocco Dai quello di legno Mi piace E poi lo combino magari al brick Molto bello il brick Perfetto Ok son pronto Ferre ma la tua casa è minuscola Ma cosa stai facendo scusa Eh cosa hai combinato Eh sto facendo una villetta No ma dai Ascolta l'obiettivo era quello di fare una casetta piccolina Per iniziare la nostra avventura E poi migliorarla nel corso degli episodi E farci un vero e proprio villaggetto Che accidenti hai fatto È una villa quella Stef il magnifico Ha la casa magnifica Ferre Sta alla base di ogni cosa nel mondo Robi sempre tutto Cioè ma che cos'è Ferre Io non ti stavo neanche guardandomi giri E vedo questa cavolo di cosa gigante Non ci provare Non ci provare a mettermi blocchi in casa Brutto disgraziato Almeno io avrò una casa Perché tu neanche riuscirai a finirla Con le tue manie di grandezza Non è vero Non la finirai come cara Vedrai No non la finirai Vedrai come la finisco Ma devo togliere un sacco di blocchi Perché mi fai queste cose Eh scusa è stato un atto davvero vandalo Scusami Esatto sei un vandalo brutto Non lo farò mai più te lo prometto Allora facciamo i gradini così Guarda che belli questi gradini però Fai schifo Guarda Ferre vieni Non li guardo Guarda Opla Fanno schifo La casa di Steph Come te Sta prendendo forma Oh yeah Allora facciamo così E iniziamo a farci anche il tetto Perché così almeno se piove Almeno sto tranquillo Poi Penseremo al resto Allora la forma alla base l'ho fatta Ed è questa Adesso dobbiamo pensare al tetto Alle finestre Eccetera 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 Quindi teoricamente siamo già a buon punto Allora una finestra secondo me sarebbe molto bella qua Che c'è Ferre perché ridi? Mi fai ridere perché sei una persona troppo Cioè bruttissima Un villaggio non può iniziare con una casa così Cioè davvero Ma perché dici queste cose? Dai non puoi iniziare con una casa così Ma perché? Ma se io voglio farla così la faccio così Ma scusami Ebo Guardate questa cosa Consolini Per costruire a differenza di Minecraft Dove ti rifai tutti i blocchi E salire sopra Io faccio così Salgo su questo oggetto Premo su E guardate No è una figata È una figata È davvero Bellissimo È immediata la costruzione Questo lo devo dire È davvero molto semplice Allora Io non so fare i tetti Ok Quindi sarò Parecchio in difficoltà adesso Dove essere sincero Prima ero tranquillissimo Facendo la mia casa Molto più bella di quella di Fere Sì a voglia Adesso però non so bene Come fare a fare il tetto Fere ma che fai? E' coro Vieni a vedere la mia Ho finito dai No Dai Fere vieni 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 Aspetta devo mettere un fiorilio qua Dai che è molto più bella della tua Non perdere tempo Allora Che sono queste finestre? No Fere che guardi Quello era il primo esperimento Io poi ho fatto questa Vieni Cos'hai fatto? Da questa parte Vedi? Ma non è vero L'hai appena messa Fere ma che Ma che dici? Stavo provando un pochettino la forma lì Dopodiché ho fatto Certo Sicuramente l'hai fatta tu Mi piace un po' di più così Sicuramente Sicuramente Dai entra 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 Vieni a vedere che bella che è Ok ottimo Allora apri Vedi qua Ci sono anche le porte che si aprono Ma mica sono tutti una per i nichi Ma guarda che bellini Stedili usati come tavolini Ma che carino Qua abbiamo vedi tutta la cucinetta Qua c'è anche il frigo Che puoi aprire così Dopodiché se tu apri da qua Hai un bellissimo cortiletto Guarda con pure l'ombrellone Che bellino Ti ci possiamo anche sedere Ti puoi sedere così E goderti le giornate Quando c'è un bel sole Ok Dopodiché c'è il secondo piano Perché ho pensato Andiamo Comunque è piccolina Quindi c'è bisogno Il secondo piano Ho pensato io No non l'hai fatta Tu smettila Queste belle scale Per salire al piano Sappiamo tutti Che lo schifo tu È solo quella casa Non questa Che bellina questa È fatta davvero carina Abbiamo tanto da imparare Davvero davvero tanto Quello lo sapevamo già fare Te lo dico chiaro e tondo Abbiamo davvero tanto da imparare Qua c'è il lettino Un po' di piantine Perché un po' di verde Ci sta sempre Questa è la scrivania Dove registro i video Perché anche su Scrap Mechanic Faccio i video Fai video sulla natura Eh no Su come costruire al meglio Perché c'è gente come te Che appunto è scarsa E quindi Io sono lì per insegnare Sicuramente Sicuramente Dai Ferre So che vuoi una mano Quindi adesso inizio A darti un po' una mano No grazie Prendiamo questo Poi sarebbe molto carino Sparisci Certo certo Questa Nessuno ti vuole Arriva Ferre Adesso ti do una mano incredibile Lasciami in pace Nella mia casetta Lasciami in pace Non ti vuole nessuno Vai via Ma l'hai vista quanto è bella la mia Dai ti puoi fidare No fa schifo la tua È davvero terribile E non ti ci sei neanche impegnato un minimo Io almeno mi ci sto impegnando Guarda Guarda che bella L'ho migliorata un sacco You are not welcome Togli quel cartello Dai è troppo bellino Ci sta benissimo Sai cosa sarebbe bellino Che tu sparissi da questo mondo Ferre Sarebbe davvero davvero bello E davvero davvero divertente E poi volevo dire una cosa Consolini Vi vedete adesso questi oggetti Ma in realtà Questi sono gli oggetti base del gioco Dopodiché ci sono le mod Che aggiungono tantissimi oggetti in più Quindi vedrete anche tanta roba in più nei prossimi episodi Abbiamo voluto partire da qualcosa di molto semplice Perché tanto non eravamo in grado di sfruttarli bene Però pieno piano aggiungeremo sempre di più le mod Per fare cose incredibili Sia di arredamento Sia proprio a livello di costruzioni Ah sì ho voglia Io sto cercando di capire come funziona La cosa che cambia i colori Devi premere Q Q Ah Selezioni il colore E poi i colori Ok allora proviamo tipo Questo celestino mi piace molto Ok Devo finire la mia casetta Perché comunque ci ho messo un sacco di tempo a costruirla Mi sono impegnato tantissimo E manca una cosa molto importante Avrò la macchina nel garage Quindi adesso me la metto Perché ho fatto tutto perfettamente Ora devo mettere la macchina che prima ho costruito Mi sembra giusto Mi sembra giusto Oh mio dio Allora io direi che secondo me ci possiamo anche iniziare a fermare Nei commenti ci fate sapere che cosa vorreste vederci costruire nel prossimo episodio Possibilmente non case a Steph Consigliateli qualcos'altro Dai tipo un pozzo Un mercatino Tutto questo genere di cose Noi iniziamo a cercare di costruire qualcosa Per rendere anche le strade del villaggio Tutto questo genere di cose Proponetecele ne sceglieremo un pochettino Ovviamente cercheremo anche di continuare a migliare le nostre case E la mia si è questa qua Quindi dovrò lavorare solo per fare qualcosa di bella E si Per essere la prima Minimale ma carina Non è bella ma neanche bruttissima Sono d'accordo Guarda ho fatto qualcosa dentro Andranno dal suolo Sì 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 No no è troppo bellina Dai guarda Ti ci puoi già riposare Sei un antipatico e basta Me ne vado Me ne vado Comunque comunque Dai direi che ci possiamo fermare così Mi raccomando Tanti likes, commenti e sondaggio Per supportare la serie Per farci capire se lo volete vedere continuare Noi speriamo tantissimo di sì Anche perché come vi abbiamo detto Oltre a costruire Oltre a poter fare tutti questi veicoli Questi edifici fighissimi Si possono aggiungere anche delle mod Che migliorano ancora di più il gioco Quindi speriamo che vi sia piaciuto E ci fermiamo così Spero che sia l'esercito di essere tutti Asciendici un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.